Uh 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 what's up? Pagio! Henry eccoci, questa che è la terza puntata di Sifu Andiamo a far fuori qualcun altro va? Nel frattempo stiamo un pochino invecchiando eh, abbiamo 47 anni andiamo iniziando a vedere il mondo in bianco e nero allora il botanico lo abbiamo fatto fuori e abbiamo il combattente al club iniziamo ed ecco un imperfetto stile Chinatown il club chiamato il club non avevi troppi dubbi ma non diciamo cavolate ti stondo di bombe anche gli innocenti io entro comunque ma stiamo scherzando avete fatto girar coglioni già te ti faccio un attacco di quelli pesanti invece perché hai rotto bam bam devi morire ha capito che tu devi morire oh entriamo nel club madonna come gli sfondo tutti di legnate ora sono sulla lista io ciccio no salto e ti e ti stondo a te cosa voglio vendetta voglio sai ok mi fa spondare sta folli bam tutututututum babababam uh mazzuolone mazzuolone no eh l'hai usata molto la mazza vedo con me si e ora ce l'ho io ciccio che si fa giochiamo a giochini si gioca a giochini no vengo e vi apro come delle cozze tutti ora lascerà lascerà anche degli innocenti immagino posso tirar la gente indiscriminatamente oh e pensavo la signorina non fosse della festa mamma uh questo fa male è morta urg bella roba che mi fai anche scendo di vieni e prendi le mazzate se le puoi le prendi te scro boom oh signorina mi dispiace ma le mazzate le prenderei offizio rosso mi sembra un po' lo più arrogante degli altri signorina ora va a vedere le margherite anche lei sembra il botanico mamma anche lui in terra chi è di giochi andiamo a tirare la dead mouse te chi sei e te chi sei non ti permetti di essere una mini boss fight anche te oh mi manca ancora la barra eh ancora sa sa allora ce l'ho bro counter va giù era 4 il counter mi volevano far diventare un'ottogenaria che c'è qui che c'è potenziamoci riserva di struttura cazzo no questo non li posso più prendere porca troia acquisizione strutture quello non mi dispiace penso che andrò di quella vai può salire qua no devo andare di qua però ahia vieni qua che c'è una festa che ti aspetta oh scusami se ti ho spaccato la trachea non volevo in realtà volevo bam come se abbassi il counter ancora non l'ho capito forse non delle perfect sto morendo ma quanto male mi ha fatto mi mancava ancora così vabbè abbiamo dei punti vediamo se ce ne abbiamo vai vai sblocca blocca blocca tutti che è sbloccabile vai compra tutto va c'ha più soldi neanche per piangere ora ahia arriviamo a 51 anni i danni aumentano la salute diminuisce bisogna essere sempre più abili nel tirarli giù alla svelta quindi mamma mia la mia rapidità il counter si abbassa o no? non ho capito questa cosa oh sei rifullato di nuovo come mai bam 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 molto bene molto bene il club mi piace se nulla era accattabile di qua tipo per far sfrangate no? vabbè oh ma non mi piaceva la telecamera volevo cambiare la telecamera io so che sembra una scusa banale ma davvero volevo non si rompere 55 che è un roguelike però perché devo morire così male ok ok morte ok perfetto allora bella roba magari lui si fa sciacassi sua però non lo so deve essere oh avevo caricato un danno di quelli grossi telecamera è diventata un pochino più anarchica rispetto a prima porca troia quanto mi ha levato quanto c'ho di vita tre cazzate c'ho di vita 60 anni dopo 60 anni non sa prendere più nulla questo c'ho capelli bianchissimi faccio un male è incredibile ma la mia vita ora è uno schifo però vuoi picchiare una vecchietta io inizia questa story Avevo vent'anni. Ed era tipo ieri l'altro. Com'è che sono diventato così vecchio tutto di colpo? Bella! Sbrom! Via la trachea. Via il dolore. Non lo so se questi si andano da picchiare o meno. Uh, no. Sciccioni no. Sciccioni no. Cioè nulla gli posso spaccare la testa a questi? Aia! La spinebuster no eh. Aia! 66 anni? Ai 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 ai. La vedo molto. Non cresce, non decresce più nulla. Ormai questo è il livello finale. Bella la spazzata potente con un ciccione in questo modo. So che non si dice ciccione. Si dice grassone. Lo so perché non è body shaming. no 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 raccatta madonna no no l'avevo presa io ah punto mi sembrava voglio proseguire nella mia trama non mi avrete bodyguard enormi ok c'è roba gialla da raccattare sicuro ma ormai sono troppo vecchio no eh invece no avevo la convinzione si eh chi te l'ha detto io vengo in pace guarda come vengo in pace io guarda rifate con le vecchiette eh brutte stronze aia aia il vecchio bambino cosa succede? 8000 anni? 73 come sono ora? non sono tanto più becchi a vedermi però croc fatto croc? io ho sentito un croc bam via il dente via il dolore ma soprattutto via il dente il dolore proprio non via imparate a darmi le spalle sai guardalo guardalo che arroganzia ci stiamo buttati sotto? qui muoio chiaramente così qui è la fine della mia storia ed è qui la fine della mia storia il game over si muore di vecchiaia in questo gioco si muore di vecchiaia perderai tutti i progressi attuali esclusi la bacheca delle investigazioni dovrai scegliere da quali nasconditi o ricominciare mentre questa storia appunto si interrompe qua se il video vi è piaciuto se la serve vi è piaciuta vi invito a mettere un like commentare ma soprattutto a condividere iscrivetevi al canale che è appena rinato dalle scene di video del precedente e mettete anche la campanella in modo tale da rimanere aggiornati vi ringrazio per il tempo che avete passato con me e ci vediamo al prossimo video ciao ciao